Il mondo del business travel è un mondo piuttosto ampio e complesso. In realtà è fatto di tanti attori, quindi di verticalizzazioni sia lato provider applicativi sia mondo dei viaggi. Quindi in realtà quello che può essere introdotto in questo campo deve necessariamente avere un'utilizzazione sia lato provider sia lato gestore della tecnologia. Perciò sono passi non immediati che comunque necessitano di una certa curva di esperienza.